Se sei appassionato di videomaking, scopri come trasformare la tua passione in una carriera di successo. I nostri corsi di alta formazione sono gratuiti, finanziati dalla regione Emilia-Romagna e disponibili a Bologna, Rimini e Parma. Impara a maneggiare le più moderne attrezzature e software di editing. Lavora a progetti reali per una formazione completa. I nostri corsi ti preparano per il mercato del lavoro, con competenze tecniche, SEO e gestione di WordPress. Iscriviti ora e inizia la tua carriera nel videomaking con COM2. Per maggiori informazioni visita i link in descrizione.